Quando ero piccola avevo la sensazione che il mio corpo servisse solo a trasportare la mia mente. Ero timida, ma quando più tardi sono salita sul palco, attraverso la mia voce, ho potuto finalmente esprimere la mia essenza. Come puoi mettere la natura da una parte e l'essere umano dall'altra? Non esiste questa divisione, è la stessa cosa. Questa separazione ci porta a pensare di poterla sfruttare perché non sentiamo di esserne parte. Ci siamo dimenticati di chiedere il permesso prima di prendere. Devi considerare che è uno scambio di energie con la Terra. Dai e ricevi. Imita la natura e imparerai a fare meno invece di contrastarne le forze perché si mettono al tuo servizio. Lasciala scorrere invece di fermarla perché tornerà indietro più forte di prima. Dobbiamo capire che la cura della nostra società passa attraverso la riconnessione con lei. Questo messaggio è passato attraverso di me e si riflette nella mia musica. Il vento canale superando le barriere del linguaggio. Siamo baranis della selva amazonica, Una tante di guerriere tra Ecuador e Perù. E pensavamo che il mondo era un bosco. No conosciammo lo che stava là. Un giorno potremmo vivere in paz. Le emozioni lo trasportano alla fine, tutto poi diviene spontaneo. Grazie a tutti.